Benvenuto nelle video pillole di FluidoTV, brevi video per scoprire il mondo del video sul web. Oggi vedremo come aprire un nuovo progetto, come creare un nuovo progetto all'interno di Adobe Premiere Pro Creative Cloud 2014. Una volta avviato il programma, si apre questa finestra dove abbiamo la possibilità di aprire dei vecchi progetti già creati, precedentemente creati, oppure creare un nuovo progetto. Cliccando su New Project, o nuovo progetto se avete la versione localizzata in italiano, si apre questa finestra dove andremo ad inserire il nome del nostro progetto. Il nome è il titolo del progetto di tutte le clip del montato che noi andremo a fare. Inseriamo il titolo, che in questo caso lo chiamo Nuovo Progetto, Nuovo Progetto, Progetto Web. La Location rimane, è uno degli hard disk aggiuntivi che ho, consiglio sempre di non salvare sullo stesso hard disk di sistema, perché così la possibilità di avere un disk esterno velocizza anche il lavoro. All'interno di questa finestra abbiamo due tabelle, General e Scratch Disk. General comprende delle informazioni generali riguardanti il Mercury Payback Engine, che se avete una scheda con il CUDA, ovvero un'accelerazione grafica, potete selezionarla, se no avete semplicemente il Mercury Payback Engine via software. Il video è come viene visualizzato il time code nella timeline, ma questo lo vedremo più tardi. L'audio, come vengono visualizzati i sample audio e la cattura. È un retaggio un po' vecchio, perché ormai utilizziamo solo l'HD tendenzialmente dalle schedine e scarichiamo il materiale, però abbiamo ancora la possibilità di catturare sia in DV che in HDV. A questo punto, una volta selezionato il nome, selezionato la location, possiamo vedere ancora il Scratch Disk in questa tabella dove vediamo dove poter salvare i video catturati, l'audio catturato, le preview video e anche l'autosave del progetto, che può essere anche in una location diversa dalla location del nuovo progetto. Questo permette anche di avere magari una copia di backup per quanto riguarda l'autosave. mettiamo il caso che succede qualcosa sul nostro hard disk principale, abbiamo comunque una copia del progetto salvata magari nel nostro hard disk C. Una volta selezionate tutte queste informazioni, possiamo cliccare su OK e si aprirà la nostra finestra di lavoro. Eccoci all'interno dell'ambiente di lavoro di Adobe Premiere. Abbiamo varie finestre, la prima è la sorgente, finestra sorgente, dove verrà visualizzato il materiale che andremo a caricare all'interno della nostra finestra progetto. Una volta caricato questo materiale, andremo a tagliarlo, selezionarlo, lo inseriremo all'interno della nostra timeline e la timeline verrà visualizzata all'interno del nostro programma. Come vedete ci sono altri elementi da vedere, ma questi li vedremo più in avanti. Per ora abbiamo capito come creare un nuovo progetto all'interno di Adobe Premiere. Queste sono le videopillole di Fluido TV. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e ci vediamo con la prossima videopillola.